Rubata la statuetta in vetroresina che raffigura Sant'Anna a Fevara. Stamattina infatti alcuni abitanti della zona si sono accorti della non presenza della statuetta che da anni si trova collocata e protetta da sbarre e vetro all'interno di una struttura in muratura. Tanto lo sgomento e la rabbia dei residenti che si sono visti mancare colei che dal 1993 è stata la loro protettrice. Ogni anno infatti nel periodo di luglio si svolge una festa di tutta la contrada dedicata proprio a lei. La statua di Sant'Anna gira di casa in casa dove viene celebrata giornalmente una santa messa. Questa mattina gli abitanti di contrada Sant'Anna si sono svegliati senza la statua di Sant'Anna. Tutti gli abitanti della zona stanno cercando disperatamente se qualcuno ha delle notizie e qualsiasi cosa che ci può aggrappare a far trovare questa immagine che per noi è molto cara. Tra l'altro la statua era là dal 1993. Sì, un'immagine l'abbiamo messa 15 anni fa nell'occasione delle festività di Sant'Anna. Era solo un messaggio, un invito a qualcuno che si è avvisto, se sa qualche cosa.